Sicuramente è stata una sconfitta che ci ha lasciato il segno, ma abbiamo reagito comunque subito bene, iniziando la settimana al massimo. È una sconfitta che comunque, sì, è all'inizio della stagione, può portare un po' da fastidio, però sappiamo che il nostro obiettivo è l'inizio del campionato, iniziare al miglior dei modi, e quindi ci stiamo allenando bene, sappiamo che dobbiamo mettere a posto alcune cose, però il gruppo è unito, lo staff e i giocatori siamo tutti uniti per un unico obiettivo. Quest'anno il campionato ha sicuramente salzato molto di livello, molte squadre hanno investito molto, sicuramente per quello che la società ha fatto, il club ha fatto per investire su questa squadra, l'ambiente, il club, prima di tutto, ha grandi aspettative su di noi e noi sicuramente cercheremo di fare di tutto per rispondere al meglio in campo e portare i risultati. Sono sempre una persona che, anche se non lo dimostra, sono sempre sicuro di me stesso e sicuramente dei compagni con cui farò squadra quest'anno, lo staff. Penso che siamo una buona squadra, una squadra di livello, di alto valore e non voglio essere egoista o pensare in grande, però punterei molto anche su di noi. Ovviamente ci sono squadre di calibro come Livorno, le due Livorno, le due Montecatini, squadre molto di grande valore.